Il nuovo primo ministro della Moldavia, Dorin Recean, si insedia alla guida della nazione dell'Europa orientale in un contesto di crescenti tensioni internazionali. L'ex repubblica sovietica è divisa al suo interno tra il sostegno alle posizioni dell'Unione Europea e gli importanti legami con la Russia di Vladimir Putin. Il programma del nuovo esecutivo è stato approvato dal Parlamento con 62 voti a favore. Su un totale di 101 saranno lo sviluppo economico e l'approvvigionamento energetico i principali obiettivi dell'esecutivo di Recean.